Era in lontano 2010 e l'Italia, da campione del mondo, si apprestava a una delle sue figuracce mondiali recenti. Ma io, proprio in quei giorni, preparavo il mio esame orale di maturità e, fra una paura e l'altra, una certezza c'è. Non è andato assolutamente come mi aspettavo. Ehi là, ciao Big Genius, benvenuto, bentornato nel magico mondo dello zio Supermat. E oggi ci siamo tolti di torno la nostra prima prova e via anche la seconda prova e rimane forse quella che mette più tensione e paura agli studenti. D'altronde bisogna parlare per circa un'oretta all'orale e si sa, d'altronde non è un'impresa facile a cui tutti siamo abituati. Ed è giusto, normale avere paura, tranquillo, tranquilla. Ma oggi non voglio darti dei consigli per quello, magari ci sarà tempo, ma oggi voglio raccontarti quello che è il mio esame orale di maturità. Perché credo che tu possa trarne degli spunti salienti, dei consigli fondamentali, anche per quello che sarà il tuo esame orale di maturità. Eravamo, come ti ho detto, nel lontano 2010, quindi all'epoca ancora c'era la tesina fondamentalmente. Era una sorta di macro collegamenti sempre presenti, solo che avevamo la fortuna, per te oggi, ahimè, sì, è vero, è un po' più difficile, di preparare a tavolino questi collegamenti tra le varie materie, partendo da un argomento centrale che per di più andavamo a scegliere noi. Ah sì, certo, vuoi sapere che argomento centrale ho scelto io? Beh, eravamo nel 2010, da poco nel 2008 la crisi mondiale, soprattutto con la caduta di Lehman Brothers, si faceva sentire e scelsi, diciamo già da bambino un po' maturo a tutti gli effetti, l'argomento crisi tra difficoltà e opportunità. Che caspita vuol dire? Vuol dire che mi sono prefissato l'obiettivo di andare ad analizzare la crisi di inizio novecento come emblema di un grande cambiamento nato da gravi difficoltà. Per fartela breve andai ad analizzare quella che era un po' la crisi dello stato liberale italiano nel primo dopoguerra, collegai la crisi della fisica classica e l'interpretazione di questa da parte di Picasso in ambito artistico, collegai filosofia tramite il dibattito epistemiologico tra Popper e Kuhn, la rivoluzione copernicana collegandomi da un libro scritto dallo stesso Kuhn, la crisi dell'intellettuale, quindi il romanzo del novecento, James Joyce, il flusso di coscienza, chi più ne ha più ne metta, i famosi e immancabili d'Annunzio Pirandello e Svevo, sì in realtà non ero stato né molto creativo, né molto, diciamo così, diverso da altri, se non per questo argomento centrale, e poi English, perché bisogna un po' spiccare il volo con l'inglese ogni tanto, Joyce, Virginia Woolf e quindi anche qui, come ti dicevo, ovviamente il flusso di coscienza, il novecento da un punto di vista letterario europeo. Successivamente, diciamo, che c'è di strano, che c'è che è andato così non a buon fine nel mio esame? C'è che praticamente, ovviamente, salve buongiorno, comincio a parlare, avevo la fortuna di sedermi con un bel 63, se non ricordo male, e ovviamente mi avevano già tolto la possibilità di arrivare a 100, diciamo che non è stato proprio bellissimo in quei giorni per me, però fondamentalmente, tant'è che neanche volevo andarci a fare l'orale, ma beh, ma questa è tutta un'altra storia, tanto dicevo già, vabbè, sono già promosso, ma che caspita, mi frega, tanto a 100 non ci posso arrivare, che mi cambia fra 63 e 93, quindi puoi già capire molto bene come io la pensavo, riguardo ai voti e ai punteggi, ma se non ti è proprio chiarissimo, puoi fare un salto qui, così ti becchi anche il mio in bocca al lupo verso la tua maturità. E cosa è successo? Beh, salve, buongiorno a tutti, mi metto seduto, comincio a parlare, e ops, dopo neanche 3, 4, 5 minuti, vedo il mio professore di matematica interno, in quel momento nella commissione, quindi quello che ho avuto anche negli ultimi tre anni del mio liceo scientifico, sottolineare in bella vista una frase rossa su quella che era la tesina stampata che portai, e rimasi tipo come un imbecille. Sì, esatto, del tipo, sì sì, proprio mentre io stavo parlando, questo prende e sottolinea questa bellissima frase e lancia la mia tesina quasi in aria. Io faccio, ops, forse qualcosa non va, qualcosa è andato storto, rimango zitto 33 secondi, dopodiché ricomincio a parlare anche perché non sapevo minimamente che caspita di altro fare. Questo te lo sto dicendo per dirti l'imprevisto ci sarà, l'imprevisto c'è, aspettatelo, io non me lo sarei mai aspettato, magari da un mio professore interno, però va bene, dettagli. Morale della favola, vedo che lancia questo plico al commissario, quindi al presidente di commissione, e motivo? Motivo che praticamente, come ti ho detto, io portavo quella che era la crisi dello Stato liberale italiano nel primo dopoguerra. E che cosa dico? Dico fondamentalmente che in Italia, come nel resto della Germania, le conseguenze del conflitto mondiale, prima guerra mondiale, non pesarono solamente sulle strutture economiche del paese, ma giocarono un ruolo fondamentale per la crisi dei rispettivi stati liberali, che vennero poi definitivamente abbattuti per instaurare il regime totalitario fascista e in seguito quello nazista. A detta del mio professore di matematica, tendenzialmente io ero un nazifascista. What? Esatto, io non mi sento proprio un nazifascista, ma secondo lui io avevo detto che Mussolini era stato furbo, davvero molto furbo, nel catturare questo momento di difficoltà, questo momento di crisi e rivolgerlo a suo vantaggio, a suo favore. Mi sembra in realtà un dato di fatto, una lettura storica, una lettura critico-storica, niente di più, niente di meno, ma il mio professore a quanto pare non piacque moltissimo. Quindi ci furono questi due minuti di apnea, come se non ci fosse un domani, e boh, alla fine, come ti ho detto, continuai a parlare. Qual è la lezione che vorrei farti portare a casa? La lezione che vorrei farti portare a casa è che tutto durante l'orale potrà andare bene, benissimo, male, malissimo, ma tu continua per la tua strada, cerca di costruire i tuoi collegamenti, cerca di parlare, effettuare il tuo discorso, non perdere mai le staffe, cerca di mantenere sempre una linea verso quella che è la tua storia. Cerca di avere dei collegamenti, ne parleremo meglio in un altro video, come ti dicevo, ben preparati, ben pronti, verso diverse strade rispetto all'argomento centrale fondamentale che potrà uscire, e cerca di avere 4-5 collegamenti pronti per ogni materia, per ogni concetto fondamentale. Il collegamento non lo vedi, il collegamento non c'è, il collegamento crealo tu. Non mi interessa. Non mi interessa nel senso che alla fine della fiera devi provare comunque ad argomentare quella è la vera abilità, quella è la vera capacità, e soprattutto non fare il discorsetto, non cercare solo di ripetere la lezioncina che ti sei portato a casa. Mettici del tuo, mettici qualcosa di comunicazione, quello che cerco di fare anch'io attraverso i miei video. Cerca un minimo anche di intrattenere, non sto dicendo che devi divertire, ma certo, un minimo, dovrai catturare l'attenzione di chi ti ascolta. Altrimenti, dopo 5 minuti, ciao ciao ma hai rotto le scatole, tieni conto anche che arriveremo fino a metà luglio ad ascoltare esami orali, e se sono tutti uguali e ci raccontano, come feci in parte anch'io giustamente, di Svevo Pirandello, Joyce e Virginia Woolf, moriremo sotterrati sotto questi grandi opere, sotto questi grandi letterati. Ti voglio però leggere qualche riga dell'introduzione che ho scritto. Non esiste civiltà umana che sia resistita allo scorrere del tempo, eppure ognuna di esse ha sempre cercato di lottare per la sopravvivenza della specie, provando a cogliere quelle opportunità che le venivano offerte da un preciso momento storico, culturale o più semplicemente personale. Tutti gli uomini da che mondo è mondo hanno vissuto dei periodi di crisi, di qualeunque genere si siano, e si sono così trovati di fronte a difficili scelte, che hanno portato a uno scenario piuttosto che a un altro, le famose sliding doors, potremmo dire oggi. Se questa crisi non è poi semplicemente personale, ma coinvolge un'intera civiltà, e quindi le loro convinzioni di base, allora la scelta si può fare ancora più ardua, e di conseguenza diviene sempre più difficile ricordarsi che un periodo di crisi non è semplicemente un momento di difficoltà, ma anche e soprattutto un'opportunità da cogliere per crescere. La parola crisi, che oggi è molto utilizzata dai mass media e dalle persone più comuni, ha una valenza molto diversa da quella che invece richiama solitamente la sua etimologia. Essa deriva dal greco krino, che significa separo, o anche in maniera figurata decido. In base a ciò possiamo quindi dire che essere in crisi significa trovarsi di fronte a una scelta molto difficile, nella quale si vengono continuamente a considerare i pro e i contro di due o più opzioni, che però si equivalgono, e quindi la scelta diviene veramente ardua. Questa visione viene ulteriormente confermata dalla parola crisi in cinese, forse la miglior lingua che esprime il suo vero significato. Infatti essa è formata da due ideogrammi. Il primo, way, che significa problema, il secondo, g, che significa proprio opportunità. Io ti faccio ancora una volta il mio grande, grandissimo, in bocca al lupo, dagli è tutta fratello, qui il mio in bocca al lupo perché non puoi perdertelo, e ci si becca da queste parti.